Buon pomeriggio, salve a tutti, benvenuti al nostro spazio, allo spazio del Dipartimento della Protezione Civile presso il Salone del Libro. Oggi per me è un vero piacere poter introdurre questa conversazione tra Donatella Di Pietrantonio e Lorenzo Grammatica che guiderà questa conversazione ed è anche un piacere raccontare brevemente perché il Dipartimento della Protezione Civile è al Salone del Libro. In realtà questo per noi è il secondo anno e lo scorso anno noi l'abbiamo un po' vissuto come un'istituzione particolare, ma un'istituzione, una parte della pubblica amministrazione che va a fare testimonianza, come altri ne potete trovare naturalmente. E ci siamo emozionati per il feedback, per l'energia che abbiamo respirato. Quest'anno l'ambizione è stata un'altra, venire e contaminarci. non solo testimoniare quello che facciamo, cosa siamo, ma andare a provare a interloquire col mondo che circola qui, che poi è il mondo della letteratura, è come dire il mondo. Perché se togliamo la letteratura cancelliamo il mondo nel momento in cui l'ultima persona che può ricordare qualcosa sparirà e prima o poi succederà. e quindi in questo tentativo abbiamo chiesto, innanzitutto aiuto a qualcuno che lo sapesse fare abbiamo chiamato Lusi, di cui Lorenzo qui è il vice direttore, responsabile editoriale stavo dicendo direttore editoriale, responsabile editoriale, oltre che autore. E abbiamo pensato anche un'altra cosa, vabbè andiamo al Salone del Libro ma andiamoci con dei libri anche e quindi ci è venuta in mente questa idea di equilibri, che è un gioco di parole ma neanche tanto e di raccogliere insieme dei testi, dei romanzi ma anche dei saggi naturalmente, di cultura tecnico-scientifica perché sempre un tipo di letteratura è, che in qualche modo dicessero qualcosa che per noi è importante che ci sembrava importante riguardo ai temi che ci stanno più a cuore, quelli della protezione civile e delle buone pratiche di protezione civile e della consapevolezza di protezione civile. Beh tra questi libri ci sei anche tu, Donatella, insomma un libro importante che a me personalmente ha dato tanto e che io tra l'altro confesso ho conosciuto proprio grazie a questa nostra iniziativa quindi spero che questo che è accaduto a me nel piccolo possa accadere poi a tanti altri conoscere cose, appunto metterci in contatto con cose con cui non siamo ancora venuti in contatto e questo significa contaminarsi per noi. Questa è una nostra biblioteca molto particolare perché è partecipata nel senso che per ora trovate soltanto un numero limitato di testi, di suggerimenti però è aperta e noi anzi speriamo che sarete in tanti a darci altri suggerimenti per far vivere questa biblioteca e farla crescere ma non dico che debba diventare come la biblioteca quella di Borgs che è infinita però l'idea è quella perché poi il mondo è vasto e le cose da dire sul mondo sono altrettanto vaste ma io per adesso mi fermo qui e cedo la parola molto volentieri al mio amico Lorenzo Grazie Riccardo, grazie Protezione Civile e grazie Donatella di Petrantoni che tra un incontro e l'altro ha trovato il tempo di venire qui, grazie Il compito che ci tocca è un compito anche ingrato non solo perché dobbiamo condensare in 30-40 minuti molti dei temi che nei due libri di cui cercheremo di parlare oggi Bella mia e l'età fragile raccontano anche il lavoro di Protezione Civile raccontano anche il rapporto che abbiamo con il territorio ma perché tu hai appena fatto una presentazione con Vittorio Linzardi e quindi non può che peggiorare faremo il possibile io inizierei in realtà prima di tutto l'età fragile è il tuo ultimo libro e lì c'è il premio strega quest'anno io vivo nel terrore ormai perché il clima è cambiato di fare troppi spoiler quindi non vorrei dare due note di orientamento a chi è qui affinché poi le domande suonino un pochettino più coerenti e comprensibili l'età fragile è ambientato in Abruzzo oggi della storia di Lucia che vive con un fardello un fardello particolarmente gravoso chi ha già letto il libro lo sa essere sopravvissuta a un nefferato delitto che è accaduto molti anni prima che ha coinvolto Doraliz una delle sue più care amiche poi parleremo anche di questo del ruolo del sopravvissuto della condizione di chi sopravvive a una tragedia e la rielaborazione pratica in qualche modo di quello che è accaduto molti anni prima viene fatta anche attraverso il rapporto che Lucia ha con sua figlia Amanda che dopo essere andata a studiare a Milano a seguito di un trauma torna a casa ed è irriconossibile non irriconossibile come lo sono spesso gli adolescenti per i genitori c'è sempre una forma di inconossibilità credo ma è irriconossibile perché è evidente che quello che è accaduto a Milano è un rimosso non verbalizzato non affrontato emotivamente e dialetticamente insieme ad Amanda Lucia e al padre di Lucia che è un personaggio straordinario nei suoi silenzi nella sua assertività nella sua nella sua decisione molto diversa dalla figlia ancora legato al mondo contadino da cui Lucia in parte si è affrancata e da cui Amanda ovviamente per un salto generazionale si è affrancata ancora di più solo apparentemente Lucia troverà il modo di rimettere in prospettiva quello che le è accaduto e riguardare a quello che è accaduto a quello che è accaduto molti anni prima io vorrei partire dal titolo dell'età fragile il titolo dell'età fragile perché? perché la prima cosa che ho pensato è a Simone de Beauvoir a uno dei suoi memoir l'età forte Simone de Beauvoir è stata una straordinaria scrittrice anche di memoir perché è un genere che lei ha padronezzato con una grazia e intelligenza rare l'età forte a cui si riferisce Simone de Beauvoir è l'età dell'emancipazione sentimentale culturale è l'età dei viaggi delle scoperte intellettuali e non è un'età adulta è la stessa età di Lucia quindi avendo come riferimento Simone de Beauvoir ho pensato l'età fragile a cui si riferisce è soprattutto l'età di Amanda inizialmente una ragazza di vent'anni che si ritrova per la prima volta esposta al mondo e alle sue asperità alle difficoltà che la crescita comporta poi ho pensato in realtà che le fragilità che vive Amanda sono le stesse fragilità che vive la madre Lucia a distanza di anni quindi l'età adulta qui è un'età fragile grazie buongiorno sì tutti i personaggi alla fine rivendicano per sé e per la propria fase di vita questa definizione di fragilità all'inizio è più evidente come dicevi per Amanda che è una ragazza partita per Milano con tutto il suo bagaglio di sogni che secondo lei si potevano realizzare soltanto lì più grande possibile più lontana possibile da casa e però torna indietro così come l'hai descritta interrotta spenta silenziosa si chiude in in camera e però poi ecco andando avanti man mano che ciascun personaggio viene in primo piano no e si presenta anche quelli apparentemente più forti per esempio il padre di Lucia no che è questo vecchio patriarca che ancora non vuole non vuole cedere ancora coltiva l'orto in una maniera quasi eroica siccome di fa male la schiena lui per curare le piantine dei pomodori si inginocchia sulla sulla terra però anche lui ormai è vecchio e benché lo lo accetti con con molta difficoltà è anche è anche fragile e quindi ecco man mano è come se ogni personaggio nel momento in cui compare e si presenta è come se presentasse anche la propria fragilità e poi c'è anche appunto per creare il link con la protezione civile c'è anche la fragilità di un territorio anche il territorio è fragile è un'età fragile per il territorio perché ci sono qui e lì per esempio degli accenni al cambiamento climatico e quindi c'è il riferimento a questo ghiacciaio che è sull'appennino sul versante del Gran Sasso che io insomma frequento questo ghiacciaio che si scioglie ed era il ghiacciaio più meridionale d'Europa quindi quindi quello poi la montagna con il suo paesaggio meraviglioso ma anche con le sue fragilità i suoi i suoi pericoli quindi diciamo che un po' la fragilità è un tema è protagonista la fragilità nel libro mi è venuta in mente una domanda avrei voluto farti dopo ma ti farò adesso l'età fragile come altri tuoi libri ma qui secondo me in modo particolarmente accentuato sono libri fatti di divisioni secondo me di soldi di attraversare e di distanze sono distanze generazionali qui abbiamo tre generazioni nell'età fragile sono distanze legate alle conseguenze della modernità le culture contadine le culture fondate sull'allevamento resistono in un modo che tu hai definito parlando del padre di Lucia eroico no le condizioni sono sfavorevoli sotto tanti punti di vista lo sono da un punto di vista ambientale lo sono anche da un punto di vista di considerazione che quel mondo e le culture che esprime riescono a suscitare adesso in chi vive in città poi altre distanze che secondo me forse è quella più 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 interessante da raccontare è quella tra chi resta in provincia e chi se ne va i tuoi personaggi spesso faticano ad accettare che qualcuno possa aver lassato la sua terra è vissuto come un tradimento ci sono queste distanze e l'idea mi pare c'è l'idea forte che la letteratura almeno credo mi dirai se dico una cretinata abbia proprio questo scopo spesso per te di colmare queste distanze di problematizzare i punti di vista e di cercare di raccontare come questa lontananza questa distanza possa essere se non colmata almeno compresa sicuramente per me la provincia è un tema è un tema importante la provincia così come i piccoli luoghi le terre alte proprio quelle veramente quei territori fragili maggiormente soggetti a spopolamento chi vive in queste realtà me compresa è inevitabile che si ponga la questione se restare andare e una volta che decida di andare di nuovo porsi la domanda se restare per sempre in quell'altrove scelto o tornare indietro riportando magari le esperienze dal mondo di fuori in questi luoghi che sono appunto molto piccoli magari impervi e quindi anche abbastanza isolati abbastanza lontani dal rumore del mondo anche dalla modernità questo sicuramente è un tema così come per me è un tema non necessariamente dei libri ma anche così ne parlo a volte negli articoli nelle interviste lo spopolamento perché sono quelli che racconto anche un po' quello in cui vivo sono dei territori svantaggiati dove manca molto e a volte non so ultimamente mi sembra veramente che manchi la speranza mi sembra che spesso abbiamo anche smesso di aspettarci che qualcosa possa cambiare in meglio c'è una sorta di assegnazione di fatalismo in parte dovuto al fatto che non c'è mai una visione dall'alto sul lungo periodo su questi territori diciamo marginali cioè la politica fa finta ma poi non è veramente interessata a risolvere i problemi della montagna o insomma di tutto di tutta quella fascia insomma della dorsale appenninica ma poi anche sopra le valli alpine eccetera non mi sembra un interesse reale no sono quelle cose che si dicono in campagna elettorale che si dicono sotto sotto elezioni però ecco questi territori richiederebbero un investimento appunto sul lungo periodo e quando parlo di investimento non parlo solo di soldi parlo di un investimento progettuale proprio di visione che cosa vogliamo farne lo troviamo o no il coraggio di dirci che vogliamo migliorare delle cose e quindi poi quello comporta tutta una serie di azioni successive oppure perché non troviamo il coraggio di dire no basta abbandoniamoli decidiamo che il futuro dell'Italia sarà un'urbanizzazione una concentrazione degli abitanti nelle città e tutto il resto lo mandiamo al diavolo affrontando tutte le conseguenze per esempio il fatto che gli animali selvatici scorrazzino nelle città no i cinghiali che che passeggiano per Roma ecco scusa sono andata un po' fuori tema però mi riallaccio alla secondo me c'è proprio una mancanza di responsabilità sia nel non fare che nel decidere proprio ce lo dobbiamo dire ce lo dobbiamo confessare che futuro immaginiamo per per i territori così un po' un po' sperduti la vita immaginaria è appunto la vita immaginaria dell'Italia tra grazie tra vent'anni dove vivranno gli italiani tra vent'anni ci sarà veramente uno uno svuotamento che cosa ne abbiamo fatto per esempio di tutta quella quell'ondata controcorrente che c'è stata durante il lockdown forse non l'abbiamo capitalizzata oggi sono venute delle persone al firma copie mi hanno detto durante il lockdown siamo stati sempre in Abruzzo ce ne siamo venuti a vivere in Abruzzo e dopo ce ne siamo andati mi sembra che tu abbia già un romanzo distopico in cui tutte le persone che stanno in Abruzzo vanno a vivere in città e scoprono che la città alla fine non è questo granché ma io vorrei coinvolgere anche Riccardo su una cosa quando parli dei cinghiali degli animali selvatici che si fanno sempre più vicini alla città c'è come un doppio scarto un movimento più la città più la città intesa come punto più alto ma lo dico anche criticamente della modernità per come la intendiamo si allontana dalla campagna e dal territorio tanto più la natura si avvicina perché quella distanza quella cesura è innaturale vorrei sapere da entrambi con le competenze diverse che avete quanto secondo voi territorio e città in questo momento anche nel racconto che se ne fa sono distanti lontani e inconossibili l'una all'altra perché secondo me questa cosa era impensabile 50 anni fa per il tipo di modernità che ha avuto l'Italia cioè molto molto erisomozenea e molto veloce troppo forse veloce in certi momenti del secondo novecento non so cosa ne pensi Donatella ma da un punto di vista di protezione civile poi io ci mi metto ti spiego io non sono un tecnico quindi poi qui c'è chi può parlare meglio di me ma dal punto di vista per esempio io mi occupo di comunicazione e di quello che troviamo rispetto a questo rapporto che poi mi sembra anche molto presente naturalmente nei due romanzi che ho letto di Donatella questa città che attira e allo stesso momento respinge vista lontana vista come qualcosa di figo dai più giovani ricco di opportunità che poi delude e quando si ha bisogno di un rifugio si torna sempre sulla terra però detto questo in realtà mica è tanto vero quello che stavi dicendo nel senso che questa distanza dal proprio territorio noi la riscontriamo a forse in città di più nel senso che si conosce pochissimo di quello che succede nel proprio territorio cittadino e spesso non si ha neanche la consapevolezza che sotto le proprie scarpe non c'è terra ma sotto c'è acqua e poi dopo restiamo sorpresi perché l'acqua a un certo punto viene su e crea problemi quindi il tema di capire quando è che io posso dirmi di sapere su cosa sono seduto è un tema di protezione civile oltre che un tema di consapevolezza umana che ognuno di noi dovrebbe avere mi viene in mente questo sempre perché siamo al salone del libro Walter Benjamin in un saggetto bellissimo scritto sull'opera di Nikolai Leskov che da quanto so io era un autore russo molto famoso ai tempi di Benjamin che ora si legge pochissimo però lui diceva una cosa lui notava che gli scrittori sono di due tipi più o meno cioè quelli che nel sangue hanno i geni degli antenati commerciali commercianti e che quindi girano e girando il mondo scappano dal proprio territorio scappano e girando il mondo conoscono hanno un'idea un'intuizione di quello che è il mondo vasto e quelli che invece nel sangue hanno i geni degli antenati contadini che restano abbarbicati al proprio territorio e quello è un altro tipo di consapevolezza e di quel territorio conoscono tutto ecco noi credo che dovremmo riuscire a fare sintesi parlando di protezione civile di queste due opposte tendenze perché giusto per chiudere il mio intervento vi stupirà sapere che nel 2004 centinaia di cittadini svizzeri sono stati coinvolti hanno perso la vita anche alcuni di loro naturalmente da un maremoto e in Svizzera notorialmente non confina col mare perché perché girano il mondo è globalizzato ok quindi in realtà conoscere il territorio non basta più neanche conoscere il proprio dobbiamo avere nei geni come parafrasando Benjamin sia quelli dei commercianti che quelli dei contadini l'ho spento allora io ho introdotto brevemente spero in un modo abbastanza preciso o non troppo impreciso l'ultimo tuo libro l'età fragile c'è un altro libro che è oggetto di questa conversazione che fornisce spunti molto interessanti anche nelle analogie secondo me che ha con l'età fragile che è Bella Mia Bella Mia S nel 2013 per egli autoedizioni venne ripubblicato qualche anno fa da Super ET e in Audi ed è un libro che affronta il il dramma la fatica della ricostruzione dopo il terremoto del 2009 dopo i terremoti del 2009 dopo le scosse del 2009 la protagonista Caterina è una sopravvissuta e qui torna già un tema a quello dovevamo prima è sopravvissuta al terremoto e soprattutto è sopravvissuta alla sua gemella più fortunata brillante fascinosa forte indipendente Olivia si ritrova relegata in un ruolo che non voleva assumere la postura di una madre perché Marco il figlio di Olivia la gemella morta si ritrova a vivere con lei e con la nonna e l'introduzione di Bella Mia rispetto a quello che ho fatto prima riporta al tema del sopravvissuto ho riletto di recente perché ho letto te con in queste ultime settimane i sommersi e salvati di Primo Levi che forse è il libro che più di tutti gli altri nella sua produzione fissa con grande esattezza un sentimento di vergogna che è il sentimento di vergogna di chi sopravvive a una tragedia e riprendo Levi perché Levi ne parla come di una vergogna fisica percepibile dell'essere vivi al posto di un altro comincia a chiederti perché io e non l'altro perché io sono vivo e lei che era accanto a me non solo diventa un esercizio un impossibile esercizio di morale applicata a se stessi anche retrospettivamente sono stato abbastanza buono abbastanza savio abbastanza generoso da meritarmi di essere in vita ho avuto solo molta fortuna e quella fortuna se la fortuna esiste perché ha colpito me e non è stata benevole abbastanza con l'altro il modo in cui Levi ne parla è il suo versi salvati è anche è la teoria non il romanzo è la è l'elaborazione memoriale e a me sembra che il sentimento del sopravvissuto questo senso di vergogna sia proprio della tua letteratura non solo in bella mia ma anche in l'età fragile chi sopravvive a quella tragedia sente sempre il peso di quella di quella di quelle di quelle venienze di quello che è accaduto quindi mi chiedo per quale motivo questo sentimento di vergogna è talmente forte nei tuoi libri da aver bisogno di essere tematizzato sembra proprio l'endoscheletro il punto di partenza tematico quasi dei tuoi libri grazie ma io stessa sono sempre rimasta stupita per la pervasività di questo sentimento tu dici di vergogna ma anche molto di colpa dei dei sopravvissuti perché mi sembra che tranne in casi in cui davvero ci sia una colpa reale non abbia nessuna giustificazione non poggi su niente e invece è appunto così comune così frequente pervasivo e è per questo che compare così così spesso nei miei libri perché io stessa ho molta difficoltà a spiegarmelo lo trovo davvero ingiustificato anche appunto in questo ultimo romanzo nell'età fragile c'è la voce narrante che ci racconta tutta la storia che è Lucia che si sente appunto in colpa a tal punto da non riuscire dopo questo questo trauma che tocca alla sua amica che sopravvive veramente per poco a questa aggressione in cui altre due ragazze invece muoiono ecco Lucia si sente talmente in colpa nei confronti dell'amica che non riesce nemmeno ad andare da lei ad andare a trovarla né in ospedale né poi a casa non riesce ad avvicinarla non riesce ad affrontare il dolore il trauma dell'amica perché perché lei si sente addosso questa colpa così grave e anche quello che dici tu anche la vergogna di non essere stata lì lei quel giorno poteva essere un giorno come tante delle loro altre giornate stare insieme fare delle cose insieme e poi in fondo qual è stata la sua grave colpa quel giorno lei se ne è andata al mare invece di andare con loro in montagna lei se ne è andata al mare non ha invitato l'amica non ha invitato Doralice perché sostanzialmente temeva che le avrebbe fatto fare brutta figura con le amiche del mare e quindi in quel momento lei si sta caricando sulle spalle sulle sue spalle di ragazza la responsabilità di Doralice che invece si è trovata sul luogo della tragedia mentre lei era da un'altra parte è una colpa davvero inconsistente non c'è non esiste lei non l'ha voluto non l'ha fatto apposta eppure è è così forte penso che sia proprio umano perché perché accade sempre non riusciamo ad accettare che il caso abbia salvato noi e non l'altro abbia preferito noi e non l'altro dopodiché siamo anche pronti a fare tutto il contrario cioè a dire perché proprio a me ma c'è anche un senso di vertigine secondo me che deriva dal fatto di essere dover cercare di ritualizzare tematizzare qualcosa che ha molto a che fare con il sacro un altro rimosso cioè il caso comunque tu lo chiami è qualcosa che ti dà le vertigini per quanto è impossibile da tematizzare il mondo il mondo contadino e la modernità o presunta tale reagiscono a questa cosa in modo molto diverso l'accettazione è molto diversa secondo me c'è anche un'altra un'altra cesura un altro elemento di distanza che è difficile rappianare se non attraverso l'irrimuginio il senso di colpa il sentimento di vergogna dell'essere vivi l'impossibilità di darsi una spiegazione sì dopodiché appunto i modi sono sono tanti per risolverla no? c'è c'è la superstizione c'è il destino doveva andare così eccetera eccetera e per esempio per quanto mi riguarda io che non che non credo a niente di tutto questo mi arrovello tantissimo sul caso anche nell'età fragile a un certo punto attraverso la voce di Lucia io dico una cosa che mi dico anche a me stessa per eventi molto più piccoli e banali cioè è possibile che non ci sia la reversibilità la possibilità di tornare indietro quindi io gli dico possibile che queste ragazze non possano tornare alla mattina all'ultima mattina della loro vacanza e invece di camminare verso la loro morte verso il loro assassino non possano tornare indietro nella tenda e decidere che invece l'ultimo giorno se lo vogliono passare così a dormire nella tenda quindi c'è veramente una grossa difficoltà ad accettare la cecità del caso e soprattutto ad accettare che le cose della nostra vita non siano sotto il nostro controllo e questo penso soprattutto che ci inquieta questa impossibilità a controllare tutti gli aspetti della nostra vita Donatella io ho un'ultima domanda ma prima di quest'ultima domanda l'ultima vorrei farti leggere un pezzetto che la introduce cantavano gli uccelli notturni uno in particolare ripeteva sempre lo stesso chiu monotono ho creduto di riconoscere l'assiolo una volta Roberto ci aveva detto che il suo verso è un mi bemolle nemmeno il tempo di chiedermi che ci facesse un assiolo in centro hanno taciuto tutti insieme quasi nello stesso istante si sono messi ad abbaiare i cani in cuoro a cerchio dai palazzi e più lontano dalle campagne e dalle frazioni della città davano l'allarme per quello che arrivava nella loro lingua inascoltata confusa tra le altre la voce di Brick da Onna la trava contro la resistenza del suo padrone e io non ne sapevo niente di colpo mi ha investito dura l'aria non il vento una massa compatta di aria percorsa sono rientrata con un salto ed è cominciato questo è un passaggio di Bella Mia sono le 3.26 del 6 aprile 2009 terremoto all'Aquila tu descrivi io trovo che sia bellissima questa parte perché nel descrivere come gli animali provino a comunicare in una lingua che è una lingua inascoltata inconossibile all'uomo la tragedia tu riesci a raccontare attraverso queste parole quella distanza tra natura e città cioè il fatto che non siamo più in grado di ascoltarla la natura a te chiedo voglio chiedere questo secondo te quanto possiamo imparare dalla difficoltà di cui parlava anche prima Riccardo che abbiamo in questo momento nel decifrare i segnali che ti sembrano incomprensibili ma non perché siano incomprensibili perché abbiamo perso gli strumenti un alfabeto una lingua per decifrarli e a Riccardo poi vorrei chiedere in chiusura quali sono i segnali che possono anticipare una tragedia di questo tipo e come possiamo iniziare a prevenirla in un modo che non è solamente una prevenzione meccanica ma una prevenzione culturale allora io rispondo e scappo alla stazione e sì insomma è un problema di di prossimità ma non solo di prossimità la la vera tragedia secondo me è che abbiamo perso questa capacità di ascolto nei confronti della natura del verso dell'animale del vento dei cambiamenti atmosferici del fiume che si gonfia d'acqua e certo il terremoto non lo puoi prevedere però insomma lo vedi se piove se la portata di un'acqua aumenta in un modo pericoloso questo l'abbiamo perso anche in campagna cioè io lo vedo non c'è più quella capacità di 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 ascolto quella intuizione abbiamo veramente perso l'orecchio perché nel nei piccoli luoghi anche nei piccoli luoghi ormai ci concentriamo su su alto ora non voglio essere populista o banale però insomma anche nelle piccole frazioni passiamo molto molto tempo davanti al telefono e il tempo è quello la giornata è di 24 ore se ti concentri su altro perdi il contatto con tutto ciò che ti è prossimo che ti è vicino e che forse sta ancora tentando di parlarti quindi vivi lì ma è come se non vivessi più lì sei poiettato da un'altra parte grazie